ragazzi dovremmo esserci siamo operativi ok ok dovremmo essere live ci dovremmo essere allora dall'altro schermo vedo spettatori 5 spettatori ciao ragazzi oggi faremo una live di crancherino e che ne so forse anche minecraft come state? tutto bene? io si tutto bene ragazzi questa live non so se la faccio di un'ora in tre quarti d'ora intanto ho cambiato già le impostazioni aspettate cos'è l'immagine? ok poi l'immagine spoglia cosa devo immagine crancher apri io provo eh ah ok capito aspettate rimuovi intanto 13 spettatori ciao ragazzi oggi live di crancher e qualche altro provo il giochetto find a new game intanto qui c'ha knickato per inattività leggo tre ciao in chat ciao ragazzi ok ok faccio prima altre cose devo aspettate ragazzi tanto un pochino non è che inizio subito a giocare come in un video ok allora iiii io lo cerco perchè non so come farlo magari ne metto uno fake allora allora quella più carina e sarebbe questa qui solo che porta un creatore cap che quelle sue sono belle e questo codice creatore cap così solo che non so come metterla vabbè allora mettiamo questa e vediamo giù se c'è qualcosa altro support the creator ok diciamo che mettiamo questa qui ora giochiamo eh intanto ciao tutti 27 in chat 27 nella live immagini ok c'è quindi togliamo qui acciucce immagine ok sfoglia ok dovrebbe essere questa apri ok aspetta ma io ci avrei qui sotto il cosetto solo che ci vorrei mettere aspetta questo lo togliamo rimuovi sì ma su testo allora intanto questo lo togliamo e non mettiamo un altro rimuovi sì poi aggiunge il testo anzi oh 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 testo che non va qua direzione al tipo di carattere underline grazie a E perché è così? Cos'è sta roba? Vabbè mettiamo quello solito Ok così va bene Ok giochiamo Ok Allora Ok Iniziamo a giocare Intanto saluto tutti quelli che sono arrivati ora Io chiamo Vediamo di trovare qualcuno eh Dove siete? Venite Da dietro? Non l'avevo visto Bravo lui da dietro Complimenti Col cecchino Sì ma questo ha salito le scale ma c'è subito ma cos'è? Doverbbero togliere il cecchino che la gente lo sa per sciottare Posso stare tanto che mi viene qualcuno da vicino Ciao ragazzi 27 in chat Vedo un botto di ciao Se vedete che guardo di là è perché C'ho lasciato di là Me l'hanno fregata Non so che sensibilità utilizzare Beh quest'altro da dietro lo dovrebbero pure togliere perché ha rotto Per lunga qualcosa che sapete bene E da dietro E da dietro E da dietro E che palle Devo trovare tutti quelli che giocano da vent'anni a sto gioco Eh non si può Non si vince oggi Ce la facciamo a fare una kill? Ora mi cambio la classe Ho sbagliato Ho sbagliato E vabbè Questa qua di mappa Siamo in 29 Intanto Ok 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 Oh quello di prima è questo Quello di prima ho trovato Ci sono E vabbè Quest'altro Non mi danno manco il tempo di vederli Mannaccia Oddio Non so che sensibilità utilizzare Sarà perché non gioco da tanto a Cranker Che ne so Sai che voglio fa Oddio Cosa ho fatto Ok 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 No Ora lo sapete che faccio Metto l'inquadratura Sul mouse e sulla tastiera E come posso fare Come faccio Ho un'idea Ok Ok Qui si vedono anche i tasti La metto un pochino più in qua Ok Vai Mettiamo Guarda Questi sono quelli che toccano da vent'anni Ora lo sto aspettando uno Ecco questo Col cecchino E non scope Godo Non l'ho ucciso Questo sta fuetando E niente L'ho ucciso Ma vede questo Guarda Con tutti i colpi Oh l'ho ucciso Non so perché mi fa aspettare Dovete che faccio Lo chiudo e lo riapro Perché mo non c'ho voglia di fare Non c'ho voglia di aspettare Ok Oh eccoci Liv 74 Live 74 Voglio fare quelle mappe Parti Nello scorso video di Cranker Nello scorso video Nell'ultimo video del mio canale Mi sembra In un video di Cranker Non mi ricordo C'erano quelle mappe Quelle mappe Dove che c'era Quando tu selezionavi la mappa C'era C'era scritto in basso a destra Parti E quella è quella dove Ci devi un tizio E ti cambiavi l'arma E la vuoi tre di fare Eeeh Solo headshot E vabbè Si è vendicato Ah però non era quello Quello che ho ucciso E vabbè Poi non so perché Corrono velocissimi Mi danno il tempo Non mi da il tempo di sparare Mannaggia E qua Vabbè Questo manco mira Già mi uccide Uno spray Ok Stavo provando una cosa Ora che viene qualcuno da di là E vabbè Ma come ha fatto A vedermi No Non voglio Aspettare No Non aspettare Play Ok E poi io perché Non ce l'ho Lo sniper rifle Guarda Non ce l'ho Come prendo Quello col bazooka Perso Uh 37 spettatori Grazie a tutti i ragazzi Oh Party Questa qui Ecco Grazie a tutti i ragazzi Per essere entrati In live 38 39 Se ne sono giunte Altri due Ok Eccola Perché c'ho Il bazooka Yes L'ho Chilato Cacchili E niente Ma fa pochissimo danno Fa più danno da vicino E metto qui Qui può spawnare qualcuno Ah mi faccio il danno da solo Vabbè Sei di vita E niente Incontro sempre gli stessi hacker Dopo ce li guardiamo due video di cranker Della gente Di quella che gioca da un sacco Non mi cambia l'arma con E Ma c'ha la pistola Sì vabbè Dalla giù Sì sì Proprio eh Ora viene da di qua Ma chi t'ha visto a te La pistola Non mi mette la pistola Ma cos'è sto fucile che spara Ah ma è la deagle No mica è la deagle Beh io mi prendo Detecti Manco il detective Ciò che è quello Vabbè Eccolo Con la Con la Con la desert Cosa sta E vabbè Mi so distrato Stavo a fare un'altra cosa Blocco Ok Spectate Non ho messo Spectate Perché mi fai così Intanto qualcuno Con l'alien blaster Sto provando una nuova sensibilità Non c'è nessuno Dai Non ho sputo di vita Questo non è proprio come gli altri Più scarso di me Questa pistolina fa 19 di danno Yes Aspetto qui allo spawn Ok Oddio Non sono morto Ok Facciamo questo underground Solo che parti ma non c'è la corsa alle armi No questa qui è furtulistica No Che palle Questa fa schifo sta mappa Per dici Per alcune cose Dici ma è bellissima Come fai Ma è brutta È brutto Fai touch Che palle Poi se più sbaglio Cadi muori Ma è l'infinito Sì vabbè Si vabbè Sì vabbè Stare in blaster Cioè è troppo mirato Quell'arma Ora la metto anch'io Brutto porcedo Cioè 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 C'è 16 colpi Solo che Deve premere queste cose Ah sì Anche se te ne è premuto Non sapevo Oddio Oddio no Ok Giapponese Questo gioco Giapponese Cranker Ma ero detto Al muro Vabbè Che devo Diggi a lui Che gli devo Diggi Poi è troppo lento Questo personaggio Si va più veloce Con il coltello Ma se Ma se lui è di là Come fa Vabbè No non c'è il coltello Con i pugni Guardate le maniche Questo qui a camperare Nell'erbetta Aspetta Io c'ho un posto Di sta mappa Dove si può camperare Qua I shifty Dietro le foglioline Vabbè Vabbè Con un colpo Mi ha ucciso Vabbè Questo è quello di prima Morì Col col coltellino Che l'arma Non scorge No Un hit Ah ma l'ho ucciso Beh Non pensavo Di averlo ucciso Ci siamo uccisi Entrambi Era questo Il posticino Camperino Questo c'ha il pompa Ah Venuto quest'altro Peccato Peccato Vabbè Che ne si ricambiare Giochettino Che facciamo Solgo Faccio il telefono Oddio Tanto chiudiamo questo Allora Direi 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 Ma che ne dite Se ci guardiamo Un videino Così Pancubo Tu microfono Lo devo cambiare Ragazzi Eh 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 ormai si C'ha tanto Sto microfono C'è ancora un unboxing Sul mio canale Si vede il tastino No Madonna mia Sto filo O Sto posizionando Così si vedono Anche i tasti E qui in fondo E qui in fondo Il mouse Allora Qualche video Ah i video di quelli là Di Cranker Degli Huckers Youtubino Youtubino Ho creato Spider-Man Su Fortnite Persone più grande Del Mediterraneo How to brush your teeth Big tooth Decay Dimentica di tagliare Lion Dimentica di tagliare Di tagliare questa parte Boh vediamolo Non l'ho visto E listed è un nuovo gioco Di battaglia online Non me ne frega niente Dell'isted Sulla seconda guerra mondiale Comanda un plotone di soldati E partecipa alle battaglie leggendali Ah C'è bisogno No no ho mangiato i limoni Che stasera Non cago più Per me C'è bisogno No no ho mangiato i limoni Che stasera Non cago più Per me Fatti mangiare Massa di imbecille Io presto lo squadro Entra cimboca Entragli le culo Ma sono veramente inutile Guarda Lion perché ti chiami VGF VGF viene dal nome del canale Sempre stato When Gamers Fail Io l'ho chiamato così Quando l'ho creato E VGF Sono le iniziali When Gamers Fail Sarebbe quando i giocatori falliscono Perché quando io ho creato il canale Era un momento in cui tutti Quelli chiamavano un canale Erano persone che erano forti a un gioco C'erano tantissimi canali Di Call of Duty C'erano persone che facevano vedere Quanto erano forti Anche su Minecraft Quelli che facevano le cose Era più una questione di tutorial Io Non ho mai puntato Sull'essere forte in un gioco Ma di utilizzare il gioco Come intrattenimento L'anno prossimo No quest'anno qui esce un gioco Quest'anno dovrebbe uscire Hogwarts Legacy Perché secondo me Hogwarts È bellissimo L'ho pronunciato alla polacca Va bene Hogwarts Sì alla polacca Sto aspettando quel gioco Da più di un anno Quindi vabbè Non voglio vivere senza di te Jack Allora scendi dalla tavola E fai salire me Oddio Ci salvo Il macaco gigante It's a love story Macaco gigante Guardiamo i video di Loren Greco 43 spettatori Grazie a tutti Marco Loren Greco Regista Al mio nuovo PC Assur 137 visualizzazioni Nove mesi fa Vediamo il suo canale Fra poco in live Sono tornato E con un nuovo telefono L'iPhone 8 1130 visualizzazioni Fortnite Fall Guys Stumble Guys Unboxing Nuovo mouse Andiamo sul gioco carinissimo in live Non potevo mettere Gang Beats No Dai Fortnite Questa dalla play L'ha fatto Qua Teniamo quest'outfit Per oggi Avevi anche un zaino Cos'era quella cosa che hai Sbloccato Un piccone 5 agosto 2021 Madonna Comunque si sentiva il volume e non la sua voce Allora ragazzi Ciao Io sono qua Sul letto E vi volevo dire che Forse faccio una live fra poco Quindi Spero che ci siate Si è su Gang Beats Ah è questa Mi farei da lui È questa Qua 11 settembre 11 settembre Cioè Si sente troppo il volume Del gioco E l'audio E non l'audio Della sua voce Perché parli a bassa voce Non si sente niente Marco Ora andiamo sul mio canale I miei video più famosi Che ha Ah ma basta che faccio così Intanto 65 iscritti Aspetta ma che succede Se scrivo video Più Famosi Tacola Chi Se qualcuno ci ha fatto un video su di me Più Più verrà nella storia del fe Ah no Vabbè E niente E niente E niente E niente Vabbè Il mio video più famoso Intanto 65 iscritti E ne sto macinando Poi Principali Il baule Mannaccio Sto microfono Lo butto Il baule più brutto Della Mia vita Clash Royale 705 visualizzazioni Beh Non male Direi Non male Non male Poi 21 705 62 visual Poi Il mio video più famoso Ragazzi è questo Vlog in piscina Con Marco 5 agosto 2021 Lo stesso giorno In cui lui Madonna Il 5 agosto Era lo stesso giorno In cui lui diceva Ah no Questa era l'11 settembre E qual era? Ah Noi vi stiamo in E betturi ragazzi Su Marte E betturi ragazzi Su Marte Come lo dice Nuova Unboxing Comunque vedo Marco Che sai scrivere Qua Lo stesso giorno Della live Cioè lui Ha fatto la live Fortnite Il 5 agosto E Io Qual era il video Del 5 agosto Questo qui No O non mi ricordo Comunque abbiamo Abbiamo fatto Un video Io e lui Nello stesso giorno Ah questo È lo stesso giorno Questo Il 5 agosto Abbiamo fatto Sto vlog Che 2505 visual E 53 like Tra l'altro Sto video È andato Iralissimo Mi ha fatto fare 10 iscritti In un giorno Mi mancherai Vabbè Lo vedo dopo E comunque Abbiamo fatto Lo stesso giorno Cioè lui Un giorno Ha fatto la live E poi Sono andato A casa sua E ho registrato I miei primi pacchi Pokémon Evoluzione Pokémon Ita Giochiamo a Brawl Stars Sfile della cola Questi sono Pazzeschi Vabbè Vero più famosi Allora Sì Quelli da 30 visualizzazioni Quelli da 30 visualizzazioni In più Sono famosetti Perché comunque Anche 21 visual Sono tante 21 persone Che lo vedono Allora Video più famosi Vedo quelli Non ordine Allora Questo qui Forse ho esagerato Unboxing Quello là Del cinese Poi Il baule Più brutto Della mia vita Poi 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 Che c'è Qui Che c'è Qui Vlog in piscina Con Marco Questo è il mio Video più famoso Questo qui 31 visual Questo qui 63 visual Questo qui 85 visual Il tour Della postazione Da gaming Di dieci mesi fa Poi Marco Lora In greco Regisce Almeno PC 137 visual Anche questo È andato Viraletto Questo Primo video Editato Divertente 43 visual 32 visual All'intro Del canale Che tra l'altro Bellissima Ve la faccio Rivedere Ok Comunque Raga Io Il mio Primo Video L'ho Fatto Il 18 Settembre 2020 Quindi Un bel Po' Di tempo Fa Poi Boxing Nuovo PC Quella RAN Mini PC Poi Un calo Pazzesco Di viso Alquisto 30 viso Alle sprecazioni Per la giornata Poi qui La moda Delle miniature Vedete Un botto Di miniature E Non c'è Nient'altro 241 viso All'ecco Questo Apri regali Di Natale Con voi Prima Che facevo Quel video Con Marco Questo Era il video Più famoso Raga Mi sono accorta Ora Cos'è Sta Copertina Guarda La faccia Allora N'è passato Di tempo Quando faccio I video 24 viso All'imeme Piccolo upgrade Dalla qualità Video Lo provo Con Minecraft Aspettate Ok Tanti video Ho fatto Quanti erano In tutto Cento No Home Video Qual è Quanti erano I video Aspetta Caccola Kid Ora mi tolgo Sto maiuscolo Il bimbo Caccola Ma perché Ma perché Ma caccola Hubo Kid Non sono io Non so Comunque Mi sa 125 video Ho fatto 125 Vabbè Ritorniamo Guardate Quanti 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 E deve andare Ancora giù Ce n'è di roba Ok Questo nuovo pc Ok Ok Giù 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 Poi Live Minecraft Questa qui Che avevo Sbagliato Poi Unboxing Epico Con Martei 3670 euro 24 visual Poi Vlog in bici 34 visual La miniatura Sempre Ottima Youtube 31 visual Questo qua Questo qua Del video La comunione Poi qui I video Di broken Borsa E questo qua Il mio primo video 65 visual Tour Della postazione 35 Vi spiego La setta di oggi 32 visual Provano a spaventarti 63 visual 63 visual Ovviamente Bellissime Minature Non lo so Mi so se ho scordato Di mettere il titolo E poi questo è il mio primo Video Con il titolo Sbagliato Vediamo di che giorno è 24 settembre 2020 Mi sono un pochino Sbagliato 65 visual Come gli iscritti E dici like Cioè 24 settembre È un anno E quanti mesi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Quasi Cioè Più Di un anno E cinque mesi Madonna mia Dai questo ce lo vediamo Questo video è storico Dentro otto minuti Dai Sì sì Fa vedere la webcam Ok Dai ci sta La potrei mettere Anche qui sopra Ascettate Ora mi sentirete Un po' meno Ok Ok Let's go Ok Let's go Ok Let's go Ok Dai questo ce lo vediamo Tutto Dai sì 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 Ci sta Cosa Cacchio Sei tu Poi questo qui Il video con Simone Vai Qui c'avevo una voce Cambiatissima Cioè io Tipo ora Se ora sto facendo Sto parlando piano Svogliato come Sto parlando piano Cioè Non è che ora Ora mi sto impegnando A fare la voce Un po' acuta Perché sarebbe brutto Parlare così E comunque Cioè c'avevo una voce Diversissima Comunque Qui c'avevo I Ancora dieci anni Io il 23 luglio 2022 Ne faccio dodici Quindi sì c'avevo Ancora dieci anni Madonna Che piccolino Che ero Vediamo E ciao a tutti Bella ragazze Ben tornati Bellissima Entro Comunque Qua la mano Una cicciotta Nuovissimo video Di Broker Bones Voglio iniziare Un canale Ero timidissimo Sentite come parlo YouTube Dove Farò I video Come fanno Tutti i youtuber Infatti ho preso Spuntura Molti youtuber Famosi Al giorno d'oggi Tipo Favij Lion Murray Non so se li conoscete Vorrò Vorrò Portare Vorrò portare Cos'è Porterò Poi qui ci stavo Mettendo un botto A caricarsi Aspetta Che dico Porterò Porterò Roblox 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 Si Un bel po' Di video Minecraft Tanti Con i miei amici E niente Questo sarà il mio nuovo canale Mi chiamo Fisol10 E questo Allora Praticamente Aneddoto Quando c'avevo 8 anni e mezzo Avevo fatto un mondo Di minecraft Che dicevo Che dove Che io Già Da quando c'avevo 8 anni e mezzo Desideravo di fare Lo youtuber Però ero troppo piccolo Allora Ho fatto un mondo Dove C'era tipo Una scritta Dove Era un mondo In creativa Dove costruivo Dei cubi enormi Cogli or Dei blocchi E c'avevo C'avevo scritto Fisol10 Che volevo Che era Il mio nome Su Del canale In effetti Il nome del canale E Praticamente L'avevo fatto Tutte con le glowstone Questa cosa È di Del 8 anni e mezzo Quasi 4 anni fa Sì Quasi 4 anni fa Avevo fatto Sta cosa E dicevo Che volevo Il canale Poi l'ho aperto E inizialmente Era XX Franchifolker XX Poi l'ho cambiato In cacola kid Però qui ancora Utilizzavo Ma di Dico nome Di Fisol10 Vediamo Ricordate di Iscrivervi Iscrivervi Qui ho dato Una botta Sul tavolo Sulla schiena Per sbaglio Iscrivervi Il canale E Attivare la campanellina Per non perdervi Nessun altro Nuovissimo Video Nessun altro Nuovissimo Video Di Del mio canale Del mio canale Per non perder Nessun altro Per non perder Nessun altro E' timidissimo Dicevo robe a caso Robe a caso Robe sensate Però Si vedeva No Ora Questo Sarà un video Di Broken Bones Dove Non si era capito Già A un minuto Ancora Non stavo giocando Ho già iniziato Si si vede Si si vede Hai già iniziato Livello 1 Zero soldi A giocarci Da circa Una settimana Ah comunque Lasciate un bel pollice E spero di raggiungere un bellissimo risultato Ok dopo un anno e poco più di 5 mesi 6 a 65 iscritti Vabbè Se sentite un po' di rumore Perché sono i miei genitori Ma fa niente Ora aspettiamo che carica la mappa La mappa E poi possiamo inserire a giocare Cato Un colpo alla telecamera Che tortura Aspetta Perché sono i miei genitori Ma fa niente Ora aspettiamo che carica la mappa E poi possiamo inserire a giocare Cato Un colpo alla telecamera Cioè al telefono Ah Piccola curiosità Voi che telefono avete Scrivetelo nei commenti Io ho un bellissimo iPhone X Rotto dietro Perché l'ho fatto avere E sono dettagli questi Ah Qui avevo ancora l'iPhone X Vero Perché io la comunione L'ho fatta a qualche giorno di ottobre Qui c'avevo ancora l'iPhone X Poi ad ottobre mi hanno regalato il Cubot P40 E al mio compleanno del 2021 Ho preso Li pone L'iPhone X L Vabbè Che cazzo Che vuoi Ok Se vuoi giocare con Pizia Voglio giocare Voglio giocare Voglio giocare Forza Forza Ok 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 Come vedete Sono a livello 16 A 68 Ah perché è vero All'inizio non ti caricava le cose Livello 16 369 monete Per essere precisi Qui era in camera di mio fratello Con il suo piccino Allora Sono a livello Non me lo ricordo più E questa modalità Praticamente Non so se conoscete Roblox Si questa modalità Si chiama Broke in Bonze E il volume è troppo alto Bellissimo Sentite Ah le ossa Praticamente qui tu ti devi rompere Ma proprio Ma ti devi spaccare le ossa Fino come se non ci fosse un domani Qui Praticamente questo mapa Tu ti devi rompere Come se non ci fosse un Ti devi spaccare le ossa Come se non ci fosse un domani E praticamente Tu Avanzi di livello Praticamente Tu E praticamente Tu Tu Avanzi di livello Praticamente Cadi Ti devi rompere Ora vi dammi il punteggio Che ho fatto con questa caduta Qualche volta si buggava 14.000 Se sono a livello 16 Quasi 17 60.000 Per uno come me E' uno schifo totale Quindi Buttiamoci Ehm Proviamo Perché l'importante E' cadere sulle rocce Perché più Se cadi sulle rocce Praticamente Ecco Questa roccia qui La mia fortunata Questa dove sto Perché Non questa Ehm Oh Affischiare Che cosa What Qui abbiamo fatto Un bellissimo punteggio Secondo me Non ancora Non so Non ho Ah Come se non lo sapevate Io gioco da pc Rigorosamente Perché è molto comodo 28.000 Ma non si è visto Ma c'è la tastiera da tre ore In quel In Vabbè Buonissimo Allora domani Non so se potrò fare il video Dell'unboxing Del nuovo mouse Tastiera E del tappetino Questo qua Questo qua Se non vi siete capiti Ehm Cacchio Aspetta Ah Ok Praticamente questo qui Ehm Ok Invito il gruppo Oddio No Ah Sono i miei amici Che mi invitano Su fortuna Sto facendo la live In un pozzo Farò tutto IMPOSSIBILLE Ehm Questa Ehm Ho affischiato Che cosa Ho fatto io gioco da pc Rigorosamente Perché è molto comodo 28.000 Buonissimo Allora Domani Ehm Non so se potrò fare il video Dell'unboxing Del nuovo mouse Tastiera E del tappetino Però Farò tutto IMPOSSIBILLE Ok Ehm Scusi Aiuto Vai Spaccati Boom Dai rotolo ancora Mancano ancora Cento metri Forza Forza Ehm Mi sa che il nostro personaggio Oggi non ne vuole Proprio sapere Le lomba nulle Perché non ne so Proprio Questo è l'obiettivo Del nostro video Anche se stiamo a 3 minuti 47 Di registrazione Preciso Potranno durare Molto Questo durerà Sui 7 minuti Perché poi A sera Di solito Ehm È meglio Registrare Di pomeriggio Infatti i video Li farò tutti Di pomeriggio Quando sono Indistro Battle Sì sì Perché come sapete È ricominciata La scuola Ah Bellissima Botta Attenzione 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 Altissima Un puttifed Un puttifed C'è Un puttifed Un puttifed Un puttifed C'è Ti lancio Molto Tanto In alto Come sto Facendo Ora Attivati E poi Devo fare Questo Pium 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 E praticamente Dovrei fare Un botto Di punti Ma proprio Non me lo ricordavo Stabilità Signorino Scusi Personeggio Scusi Vai che Ciappiamo La roccia Vai che Ce la fai Non ce la fai Che dolore E viola Guarda il cervello Sono una foca Che cacchio è Che Ciappiamo La roccia Che dolore E viola Guarda il cervello A meno Un centomila Gioco Tanto Qua fa Trentamila E Duecentocinquimila Come Una volta Sapete quanto Ho fatto Ho fatto Cinquecentocinquantacinquimila E E E Ero A livello Uno E di questo Livello Era al tre E Del livello Della ma Però A livello Uno Speriamo Che non Venga O mio Padre O mio Fratello Che mi chiamino Per fare La doccia Perché fa Molto caldo In questo E Un'altra Botta Qui Andiamo Benissimo Proprio Forza Rimuovi Premiamo Stop Così Si ferma E Sei baghato Vabbè 18 mila Io Che faccio Guarda Questa Livello 24 Però Lo sto Sono in Secondo In Classifica Intanto Qui c'era La gente Che chattava Che cosa Stavano facendo Non l'ho capito Comunque Vabbè What the fuck Bro Non si dice Sei piccolino Non si dice Non si dice Comunque Non vi faccio la traduzione Perché penso Che lo sappiate Cosa Eh Vabbè Comunque In ogni video Non so Se porterò Farò Almeno Tre video Alla settimana Di sicuro C'è un mio amico Che fa Lo youtuber Che ne fa Quattro al giorno Questo era L'oran greco Lo youtuber Forse Non mi ricordo Ah si Marco Lo fa Da più tempo Fai I pixel Di minecraft Quindi porterò Minecraft Però piuttosto Roblox Broke in bolso Pure roblox Modalità molto Horror Perché Modalità horror Voi A me A me Non mi piacciono Perché mi devo Cacare in mano E invece A voi vi piacciono Perché Mi vedete Cagarmi addosso E quindi Voi vedete Vi divertite di più E questa cosa A me Non va affatto bene Però Attenzione Perché Ora sono diventato Badres Come lo zack Sto facendo Un ottimo punte Oh Se arriviamo in velocità Qui Vai Vai avanti Boom Di testa Tutto appannato Almeno un 30.000 Ti prego 30.000 50 Non mi ricordo Please Non mi ricordo Hype Stop 34.000 Più che sufficiente Più che sufficiente Ehm Buttiamo Ancora Dobbiamo arrivare Almeno A Poco Più A Poco Meno Di Ma è impassito Il nostro personaggio Uè Deve Tarrata La trottola Ma cosa Stai facendo Osvaldo Boom Cosa La trottola Cosa Sta facendo Si è rotto Raga Ehm Non ho Un'inquadrazione Molto Bellissima Inquadrazione Inquadrazione Ehm E c'avevo 10 In italiano Inquadrazione Inquadra Bimbo Faccio il mio meglio Comunque ricordatevi Iscrivervi Al canale Terza volta Perché così Io sono felice Se non Il personaggio Il personaggio È impazzito È così Cos Iscrivete Non lasciate Like E non attiva Il campanile Lasciate Lì Che Ehm Ormai Ve l'ho detto Ehm Oh Ti muovi Dai Buongiorno No no Non si danno i punti Sei rotto raga Non si danno Raga Non va il mouse Si è buggato E qui Ci fu il momento In cui Brokenbone Si rompe Tutto Roblox Ehm 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 Sì Questa Oh È 11.000 Meglio se non lo faceva vedere Il risultato Madonna perché Oddio mio Quanto è scomoda Perché Praticamente io uso I pesi Di un chilo Per mantenere il telefono Se no Mecca le in avanti E già che è spaccato dietro E si vede la scheda usb Perché Acco No 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 In avanti E già che è spaccato dietro E si vede la scheda usb È spaccato dietro E si vede la scheda usb Voi lo sapete Che cos'è la scheda usb Lo faccio vedere io Allora La scheda usb Aspetta Oh Oh La scheda usb È questa qui No Ecco Come fa ad essere in un telefono Ma sarà stata la memoria Vabbè Vabbè Non era un esperto Elettricista Di telefoni Non era un esperto riparatore di telefoni Però vabbè Cioè dai Bocchiamoci un'altra volta 8000 Che schifo Che schifo Non ti dicono parolacce Cari Cari Comunque i prossimi video Li vedrete Li vedrete con una tastiera O mouse Molto meglio Magari il mouse No perché non si vede Però perché ho ordinato Su Amazon Una tastiera Molto bella Della Logitech In realtà Non è della Logitech Ma lo dico Per non sembrare Un tizio Che non c'è niente di buono Però è molto buona Perché si illumina Ed è bellissima E se non lo sapevate Mi chiamo Fisol10 L'ho detto prima Che c'è Tra cazzo Se non lo sapevate Mi chiamo Fisol10 Perché sono 2010 Ma cosa Perché Ho scritto Wow Me lo pipa Ovviamente Non so se avete visto Ora cerco di stoppare Nel frame In cui lo fa vedere Perché non so se Se avete visto Cosa ho scritto Aspettate Io stoppo No Eccolo Fuc 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 Che significa Boh Non lo diciamo Fuc Non si pronuncia così Almeno dico una parolaccia Fuc Vabbè Me lo pipa E ovviamente E ovviamente È un gioco È un gioco Oddio Si è rotto Ok Avevo sentito Un'interferenza 27.000 Abbiamo mezzo milione Raga 500.000 Più di mezzo milione Porceddu 120.000 Che ero tipo In quel punto Lì della mappa Dove c'è Il mouse Dove c'è Il mouse Tipo lì ero Ok dove c'è Il cursore Lasso Lasso Cadiamo Come Tazza di Cullen No Ratorix Allora raga Direi di fermarci così Questo è il video Di Roblox E Vi saluto Ricordate di Iscrivervi al canale Attivare la campanella Per non perdervi Nessun altro video E Vi saluto Ci vediamo negli altri video Ciao ciao E Ciao tutti Bella ragazzi Bentornati Finita Vabbè ragazzi Direi Di interrompere Qui La live Intanto Stiamo in 71 Cosa 71 Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti 71 Siamo in 71 73 Vabbè Quei che sono arrivati ora Mi dispiace Ma la live è finita Tanto vabbè La trovate sul canale La trovate sul canale Quando c'è Quindi ve la potete rivedere Anche se non are in diretta E vabbè Ci vediamo nel prossimo video O live Quello che è Ciao ragazzi